25esima giornata del campionato, il campo usa Empoli contro Portegone, Quintetti per Portegone, Paci, Toscano, Divac, Maspero e Marconato, per Empoli e Mariotti, Izzani, Giannini, Marugic e Bei, prima palla a due perché è stato da Lute, Mariotti per Bei. Senza di Bei che si è fatto sentire molto nella prima partita a Siena, senza di qualifica, Rivas, Maspero, alla due possesso per Portegone. e a La fin vincente di Toscano, Zandini, Bei, Ariotti, Carabey e Altriano. La fin vincente di Toscano, Zandini, Bottegone, Zona belluta su questa rimessa sembrerebbe, Zona Sveglia, Mastero, T-Badge, Mandaccio di Marucci, Mariotti, Bei, si ritrova troppo sotto canesso, anche buono l'assoggio di Mariotti, alla quasi recuperata Linda Marucci, però sesso stesso per Toscano, Mastero, Toscano, Stagioni, Buongiorno Quarto punto assegno per Toscano Lei è già dall'altra parte Per Marusi Mariotti Altro tiro da Dalla non entra per Mariotti Questo non entra Falso per Montecone Marco Napo Baci Che valsa di Bei Lungo Mariotti Marco Napo Napo Balla lasciato tirare da tre Andiamo Le buone mani Sono venti anni che giochiamo contro Marconato Stoppata Marconato con Mariotti Questa è in tre desce In balza di Giannini Mariotti Ghizzani Balla di Giannini Balla di Giannini Il primo pagano di Marconato 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 10-8 10-8 al barziale Giannini Mariotti Bei Giannini Balla difficile da controllare Buon pagano di Marconato Balla di Giannini Balla di Giannini Balla di Giannini Balla di Giannini Beih, Zannini, Maruzic dall'angolo a spazio, Ferro, rimasto per Marco Rato, andato dall'altra parte con Maspero, giro posto, rimasto per Toscano, passi a spazio. Grande Lucia al posto di Ivac, Mariotti, Zannini, Pizzani, Maruzic, Beih, Pallo di Toscana, Pizzani, 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 Pizzani Toscano, Angelucci, Mastro, Toscano, pallo di Pizzani, secondo pallo per Pizzani, tra Fontana al posto di Pazzo. E' di Tramascani e molto spizzata. 1 su 2 per Toscana, punteggio 11-10 tra voltecone, facciamo anche tardi il primo quarto, Mariotti cerca di sfruttare il blocco di Bay, Mascagni, al limite dei passi, l'imbalzo di Mascagni, Mastro, Angelucci, Marco Lato, ancora Angelucci, due rimbalzi con Sessi, Giannini, Bassi, Bassi di Giannini, Marco Lato, Mastro, Toscano, vederò per Toscana. Escono Marco Lato e Mastro, rientra Divac e Galli. 2 su 2 di Toscano, Giannini. Mariotti, Bay, Marovic, Montana, ancora Divac, cambia con Montana. Sì, ora, la vibrazione è stata la campagna. Sì. A parte di un'accomandata. Rimessa per dire. Uno! 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 il giro per Mariotti, altro po' di fortuna per Luse, Galli, Toscano, Viene, Mané possesso il bottegone, 14 secondi, scusi che si schiera sempre dentro la distrazione zona sulle rimesse in attacco per il bottegone, Marosic, Mariotti, Meic, Kivac, Toscano, si, se ne v Budi, da McMaliri, esiste un claudio, ma per ieri ci sono veramente Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Marconato. a tutti. 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 . a tutti. 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 tra. a tutti. inizia. a tutti. 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 . a tutti. 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 . a tutti. 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 . a tutti. a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti.